Questa mattina al Beauty Garden di Biancavilla si è svolto un incontro operativo da parte dei vertici di Risto World Italy, l'associazione per la valorizzazione della cultura enogastronomica, turistica e artistica, incontro preparatorio per la promozione di attività benefiche e di formazione del personale. Hanno partecipato il padre spirituale dell'associazione, Monsignor Benedetto Currao, il presidente di Risto World, Andrea Finocchiaro, Claudio Leocata, responsabile Academy e componente del Consiglio Nazionale, nonché Marcello Proietto di Silvestro, segretario nazionale dell'associazione e direttore di Risto News. Monsignor, perché sono importanti queste iniziative benefiche? Sono importanti e fondamentali perché nello spirito di Papa Francesco coinvolge il mondo cattolico e nonno agli ultimi e quindi uno degli scopi di poter in modo particolare ai giovani offrire dei corsi e contestualmente compiuti questi istituti possono essere inseriti in un piano di lavoro nazionale e internazionale. Andrea Finocchiaro è il presidente di Risto World. Nella sostanza in cosa consistono queste attività? Allora, visto comunque la nuova nomina di Monsignor Currao per quanto riguarda le attività benefiche della nostra associazione, Risto World insieme in collaborazione con il Nucleo Emergency, che è il dipartimento che si occupa di queste attività nella nostra associazione, abbiamo intenzione di organizzare, a parte delle scene sociali per i poveri disagiati sul territorio nostro siciliano, ma organizzare anche insieme sicuramente al Dipartimento di Protezione Civile nell'emergenza fredda e infernale la realizzazione di zuppe calde con i nostri chef specializzati in cucina da campo per darli ai poveri bisognosi durante il territorio del freddo invernale. Ma cosa ancora più carina, stiamo andando a organizzare un progetto di inserimento lavorativo e formativo per le persone senza detto, dunque tutti i disagiati che non hanno una professione diamo l'opportunità di fare una formazione gratuita con i nostri chef professionisti e non solo, dove insegniamo la professione e l'inseriamo anche sul mondo del lavoro dunque diamo una nuova opportunità di inserimento nel mondo diciamo sociale. Claudio Leocata, durante l'incontro operativo di stamattina si è parlato anche di censimento, di cosa si tratta? Censimento è estremamente importante perché ci fa capire quelle che sono le esigenze nel mercato nell'incontro tra domande e offerta e qui noi professionisti, grazie all'associazione Ristworld che si impone sempre di più nel mercato, cerchiamo di effettuare questo censimento al fine di capire quali sono le richieste da parte dell'azienda e le richieste da parte dei professionisti in modo da creare una rete che possa soddisfare bene e aiutare le persone che cercano lavoro e le aziende che sono in cerca di professionisti. Qui subentra la nostra professionalità sia per quanto riguarda la scuola per la formazione che è anche per soddisfacimento di questo censimento e quindi di aiutare sia l'azienda che i professionisti. Tutto qua. Si comincia a settembre, c'è anche un piano di comunicazione che sostiene queste attività, diciamo i destinatari di queste attività benefiche, come verranno coinvolte? Sicuramente tramite i nostri canali associativi e quindi il nostro portale www.risworld.org ma anche grazie alle varie agenzie che sul territorio ci rappresentano. A questo proposito desidero ringraziare molto Monsignor Currao per la sua disponibilità e per il suo affiancamento all'associazione in questa ridda di attività molto importanti che non toccano solamente le attività benefiche ma anche quelle di formazione. Attenzione alla formazione. La formazione ci consente anche di restituire dignità al lavoratore e quindi di avere un giusto peso sul mercato. Questo è molto importante soprattutto nel campo della ristorazione. A settembre partiremo anche con un corso di formazione. Noi abbiamo anche i nostri supporti informatici e soprattutto abbiamo una testata giornalistica con la quale veicoleremo tutti i contenuti. Si tratta di Risto News. Risto News è la voce di Risto World ma ovviamente si occupa anche molto di turismo, di ambiente con il nostro portale www.risworld.org dove tutti troveranno anche le modalità di accesso alle varie iniziative. Grazie. Grazie.